Il lago di Como si è svegliato ricoperto da uno strato di strana sostanza, apparentemente oleosa. Al momento non si conosce la causa o la provenienza di questo apparente sversamento, apparso sullo specchio d'acqua del primo bacino nella mattinata del 19 maggio. La foto è stata scattata da un lettore di cui Como, intorno alle ore 7 del mattino vicino alla diga foranea. Grazie per la visione!